Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi videoacquisti Primark, Chiavi, Miniso e anche Maison du Monde, quindi oggi mega videoacquisti. Allora, parto con Chiavi, che abbiamo preso dei castini per mia figlia, ve ne faccio vedere due, ma ne abbiamo presi tre. Totale della spesa 12 euro, poi Miniso, ah no, anche Prenatal, c'è anche roba della Prenatal. Miniso, ho preso queste due tasse, che le avevo già prese, ma questa qui l'avevo spaccata e quindi l'ho ripresa, pagata 12 euro e 40, una cosa del genere. Adesso ve lo dico subito, ho preso anche queste due cose qua, da decorare per Halloween, e in totale ho speso 18,97 euro, 2,99 euro, 2,99 euro e 12,99 euro. Questo è quello che ho preso, adesso lo sposto un attimo. Poi, alla Prenatal, ho preso, non ho più lo scontrino mi sa, no ce l'ho, allora, ho preso, questo sonaglino qua a dare a mia figlia, 7,99. Poi ho preso, anche qua, un paio di cartini anti scivolo. Gli altri, non so che fine, ma abbiano fatto, sono qua. Ok. Questi qui, 6-12 mesi, ma sono voluta stare un po' stretta sui cartini, perché se no le fanno da stivale. Poi, passiamo a Maison du Monde, che ho preso due cosine, per Natale. e ho speso 15,13 euro, ho preso questo, che lo cercavo, l'ho preso, e l'ho pagato 9,99 e questo qua 4,99. In totale ho speso 15,13 euro, perché abbiamo preso anche la sportina, 15 centesimi. Non l'ho fatta pagare. Ok, passiamo a Primark. Da Primark abbiamo speso, vi faccio vedere, 73,30 euro. Non male. Allora, mi sono presa due paia di jeans, perché sono un po' dimagrita. E vabbè, questi che vi faccio vedere, vi faccio vedere solo come ne sono fatti il colore. Più di così non riesco. Allora, ecco qua. Jeans normali, con le taschine normali. E questi li ho pagati, 18 euro. Poi ne ho preso un altro, un pelino più largo di quello, perché ho voluto prendere, vabbè, la taglia che adesso vi andrebbe bene, è anche una taglia in meno. E questi qua li ho pagati, 16 euro. Adesso vi faccio vedere. Comunque sono identici quelli. Quindi non è che... Sono un po' più scuri. Ecco qua. Allora, non abbiamo preso tantissima roba, perché è tanto... Sono da quello di Bologna. Comunque è il quarto Primark che giro in questo mese, quindi... Ho preso anche queste, di Minni e Topolino. Sono pagate 7 euro, sono così. Insomma. Poi... Un altro, anzi... Sì, vabbè, un altro pigiama così. Per mia figlia. Bello grosso. Invernale. Poi ho preso anche questo qua. Questo è molto invernale. Adesso cavo... Questo. E... Allora, le ciabatte le ho pagate 7 euro. E... Allora. Ce batte 7 euro. E... Comunque anche questo qua l'ho pagato 7 euro, eh. Ok. E adesso invece vi faccio vedere questo qua, che non c'è scritto il prezzo. 12-18 mesi. Non c'è scritto niente. Comunque. Questo... Ah, è scritto qua. 16 euro. E' una tuta... Cioè, è una tuta. E' un body. Una pigiama, ovviamente. 12-18 mesi. 86 centimetri. 16 euro. Questo è un pigiamone bello invernale. Con la cerniera e... In fondo è chiuso. Quindi... Con questo sta bella calda. Poi... Abbiamo preso... Anche questi qua, 7 euro. Sono dei pantaloni felpati. Sono dei pantaloni felpati, normali. Questo è quello che abbiamo preso. E detto questo, io vi saluto. E noi ci vediamo al prossimo video. Eccoci. Ciao.